Io il flash non lo uso, a me non piace, mi fa schifo, io scatto solo con luce naturale. Se avete mai pronunciato o avete mai sentito pronunciare una frase come questa, siete venuti nel posto giusto perché oggi cercherò di farvi cambiare idea. Andremo infatti a vedere come si utilizza un flash a slitta, flash a cobra o speedlight, comunque lo vogliamo chiamare. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia, scatto in particolare per le aziende da tanti anni, ho dovuto imparare a utilizzare tutti i tipi di illuminatori a mia disposizione, perché a seconda del contesto potrebbe servirmi qualcosa di diverso per illuminare correttamente la scena secondo le esigenze dei miei clienti. Nel corso del video di oggi vi farò vedere come si installa e come si utilizza un flash a cobra, uno speedlight, in particolare qui abbiamo il Canon EX 430 seconda versione. Andremo a vedere come si fa a installarlo e a utilizzarlo in maniera rapida senza commettere errori. Vi chiedo già da subito a questo punto di farmi sapere in un commento se vi interessa l'argomento, se volete vederlo sviluppato ulteriormente, perché questo è un video abbastanza basico in cui vediamo proprio i fondamentali su come si installa, si accende e si fa funzionare un dispositivo di questo tipo. Se vi interessa un tutorial più in profondità vi chiedo di farmelo sapere nei commenti in maniera tale che io possa capire se è il caso di cominciare a produrlo. Sempre a questo riguardo vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, perché quando io vado a realizzare un contenuto su commissione se non vi siete iscritti poi rischiate di perdervelo e noi questo non vogliamo che succeda. Un like a questo video è parimenti cosa molto gradita perché mi aiuta e non poco con l'algoritmo di YouTube. Ma andiamo a incominciare. La maggior parte degli speedlight li troverete semplicemente nella scatola, ma taluni, e io sono particolarmente affezionato alle custodie, avranno una confezione morbida o rigida che sia, all'interno del quale possiamo riporlo nella borsa o nello scaffale quando non è in utilizzo. Andiamo a estrarre il nostro flash e la confezione non ci serve più, anche se vi segnalo che talune confezioni possono contenere un basamento, più comunemente soprannominato Batman per ovvi motivi. Questa è una basina in cui noi possiamo mettere il nostro flash su una superficie e possiamo utilizzarlo anche da remoto, ma questo lo vedremo in un altro capitolo perché è una cosa un pochino più complessa di quanto andremo a dimostrare oggi. Componenti essenziali del nostro flash. Da qui uscirà il lampo, quindi non facciamo questo. Questa è la parte che si attacca alla nostra fotocamera o al nostro trigger. Vado a mostrarvela se ci riesco. Come potete vedere qui ci sono dei contatti. Quindi questa è una parte, come tutto il flash, è un po' delicato, quindi bisogna trattarlo un po' bene. Questa parte si va a innestare sulla hot shoe o slitta, come la vogliamo chiamare, della nostra fotocamera o del nostro trigger. Attenzione, ogni produttore ha la sua configurazione, quindi noi non possiamo prendere un flash di un brand e metterlo su un altro brand. Ci sono dei flash compatibili, quindi le marche tipo Yangnu o piuttosto che Godox, che potrebbero avere una linea di prodotti dedicata al brand specifico della nostra fotocamera. Quindi se stiamo usando Canon e abbiamo un flash Canon non ci sono problemi. Se stiamo usando Sony e vogliamo prendere un flash Godox, dobbiamo prendere il flash Godox fatto apposta per Sony. Altre componenti importanti sul nostro flash. Qui davanti abbiamo una o due fotocellule che ci permettono di andare a mettere a fuoco in maniera più efficace e mettendo un lampo che serve al nostro flash a leggere l'immagine. Piccola nota dolente, questo sistema funzionava benissimo su Reflex, su Mirrorless pare che non funzioni più. Però c'è anche da dire che le Mirrorless mettono a fuoco molto meglio già da sole, quindi forse non ce n'è più nemmeno bisogno. Vano delle batterie, la quasi totalità degli Speedlight che abbiamo a disposizione, hanno un vano batterie dentro al quale noi andiamo a riporre delle batterie stilo oppure una batteria ricaricabile al litio a seconda del modello. Diamo per scontato di aver caricato correttamente il nostro flash, di aver inserito correttamente le batterie e a questo punto possiamo andare ad accenderlo. Un'ultima nota, alcuni flash potrebbero avere degli agganci per dei cavi su uno dei lati, quindi potrebbero avere l'attacco per un trigger esterno via cavo o addirittura degli attacchi per una ricarica durante l'utilizzo. In questo caso non li vediamo perché sono cose un po' più complicate che francamente vi dirò io stesso non utilizzo praticamente mai. Molto bene, ma ora siamo qui con il nostro Speedlight e siamo pronti ad accenderlo. Ora ogni flash avrà un sistema di accensione diverso, nel mio caso è un bottone, in altri casi ci potrebbe essere un pulsante da tenere premuto per tot tempo. In questo caso noi andiamo semplicemente ad accenderlo e lui emetterà un ronzio per segnalarci che è pronto all'utilizzo. La luce che si accende significa che la batteria è carica e il buffer è caricato e quindi il flash è pronto a scattare. Se scattiamo tante foto in successione questa lucetta potrebbe spegnersi e questo significa che il buffer del flash è pieno e che quindi ha bisogno di un po' di tempo per ricaricarsi prima di un nuovo lampo. Una cosa molto importante che andiamo a vedere è la modalità. Qui abbiamo il pulsante Mode. Come vedete in questo momento il flash è impostato su ETTL che significa Evaluation Through the Lens. Quindi sostanzialmente il flash è impostato in automatico. Andrà a dare una lettura della scena attraverso l'obiettivo, quindi l'esposimetro interno della macchina deciderà qual è l'esposizione corretta e il flash andrà a compensare per darci l'esposizione desiderata. Noi possiamo premere il pulsante Mode e passare in manuale. È una cosa che io consiglio di fare perché utilizzare il flash in automatico è molto limitante. Tuttavia in questo video vediamo come si installa il flash e come si va a scattare da subito commettendo meno errori possibile per cui ETTL dovrebbe garantirci un'esposizione quanto meno decorosa nella maggior parte delle situazioni. Il pulsante Zoom che vedete qui sul lato praticamente serve ad andare a decidere Vedete io qui posso dirgli Zoom 24, 24 è il minimo e poi io posso salire fino a 105 se ricordo bene. Esattamente. Questo serve a decidere l'ampiezza del fascio. Normalmente io lo lascio abbastanza ampio perché di solito quando uso il flash sto comunque utilizzandolo per eventi e quindi voglio un'illuminazione più uniforme possibile. Se voglio concentrare il fascio del mio flash su un soggetto più piccolo, più definito e quindi magari se sto utilizzando un'ottica con una lunghezza focale maggiore posso andare a modificare questo parametro. Questo pulsantino con questo fulmine e la H è il bottone dello High Speed Sync. Che cosa significa questo? Nel momento in cui noi montiamo un flash sulla nostra macchina praticamente stiamo introducendo un ulteriore variabile insieme al triangolo dell'esposizione che già conosciamo. Se non lo conosciamo andiamoci a vedere qualche video a riguardo. È pieno di contenuti che parlano proprio di questo. Io vi lascerò alla fine un mio contenuto in cui parlo non tanto dell'esposizione in sé quanto piuttosto dei modi di lettura che sono essenziali per capire come funziona l'esposimetro e di conseguenza come performerà il flash in ETTL. Tornando ai tre parametri dell'esposizione, sapete che noi abbiamo i valori ISO, abbiamo l'apertura e abbiamo i tempi. Che cosa fanno questi parametri? L'apertura controlla il diaframma, quindi quanto ampio è il diaframma attraverso cui entra la luce. Questa è una cosa che non varia nel tempo, quindi il diaframma è sempre di quella misura una volta che l'abbiamo impostato e quindi la quantità di luce che passa è sempre quella. Il valore ISO parimenti sono sempre quelli una volta che li abbiamo impostati. I tempi invece funzionano in maniera un po' diversa perché il nostro lampo dura di meno del tempo di scatto. La luce viaggia a una velocità tale che il nostro shutter non può raggiungere, per cui praticamente qualunque tempo noi impostiamo la luce è sempre più veloce. Noi possiamo arrivare a un otto millesimo di secondo sulla maggior parte delle macchine come tempo minimo, la luce è comunque più veloce. Questo che cosa significa? Questo è molto interessante nell'utilizzo del flash. Significa che noi possiamo usare ISO e diaframma per controllare l'esposizione del flash, mentre possiamo usare i tempi per controllare separatamente l'esposizione dell'illuminazione ambientale. Questo è molto interessante perché col flash siamo in grado di dare una flashata e lasciare lo sfondo completamente nero, in virtù del fatto che abbiamo illuminato il nostro soggetto più vicino, lo sfondo rimarrà nero perché avrà meno luce, oppure, e questo si fa chiudendo i tempi in maniera tale che la luce ambientale non faccia in tempo a impressionare il sensore, oppure possiamo fare il contrario, possiamo aumentare i tempi in maniera tale che ci sia il nostro flash, a questo punto avrà una potenza minore, ma che la luce di sfondo riesca comunque a impressionare il sensore. Quindi abbiamo la possibilità di decidere questa cosa in maniera più flessibile rispetto che se stessimo usando delle luci fisse. Ma per fare tutte queste cose bisognerebbe scattare in manuale perché altrimenti la lettura automatica di solito ci impedisce di essere così precisi nell'esposizione, ci dà una lettura che più o meno va sempre bene, però senza darci la possibilità di scendere così tanto nel dettaglio. Per cui di nuovo fatemi sapere se vi interessa perché ne potremo parlare in un capitolo successivo. Bene, ma tornando al nostro bottone con la saeta e l'h, che cosa serve questo? Dovete sapere che la maggior parte delle fotocamere hanno un limite di sincronizzazione tra lo shutter e il flash che è un duecentesimo di secondo. Se noi scattiamo con un tempo inferiore a un duecentesimo di secondo, cominciamo a vedere degli artefatti assolutamente poco gradevoli che di fatto rovinano completamente le nostre foto. Quindi questo è dovuto al fatto che il lampo del flash non si sincronizza più perfettamente con lo scorrere della tendina sugli otturatori meccanici. Adesso gli otturatori meccanici fra un po' non ci saranno più e quindi forse non avremo più questo problema, ma per il momento ve lo segnalo. Il bottone con l'h, high speed sync, serve proprio a questo. Serve a dire al nostro flash che stiamo scattando con un tempo superiore e che quindi deve emettere il lampo mantenendolo in un tempo un pochettino più prolungato, quindi consumando più batteria, però dando la possibilità alla nostra macchina di lavorare anche con un tempo inferiore. Veniamo ora alle cose un pochino più interessanti per quanto riguarda questo flash. Questo tipo di flash viene denominato anche flash a cobra per un ottimo motivo, perché noi qui abbiamo un bottone alla pressione del quale possiamo orientare il nostro flash e vedete che adesso sembra effettivamente la testa di un cobra. Noi possiamo fare un sacco di cose con questo flash, ovvero possiamo scattare con il flash in avanti e quindi immaginatevi che, anzi, l'immaginazione è sopravvalutata. Io ve lo metto proprio su una macchina e attenzione, gli speed light si inseriscono sulla hot shoe della nostra macchina ma poi vanno bloccati. In questo caso c'è una levetta, tic, scatta in posizione e adesso il flash non si muove più. Alcuni altri hanno una rotella a vite che va girata, alcuni altri hanno un bottone. Ricordiamoci di non stringerla troppo e di non stringerla troppo poco, perché se ci casca il flash sono dolori. Una volta che l'abbiamo installato, come potete vedere, in questo caso il flash punta in avanti. Perché questo flash è molto meglio del piccolo flashettino sulla camera? Per due ottime ragioni. La prima, la superficie che emette il lampo. Questa superficie è grande otto volte di più di quella installata sulla nostra piccola macchina. Quindi avrà una luce più morbida, perché un emettitore più grande, di dimensioni più grandi, avrà una luce meno puntiforme e quindi automaticamente più morbida. Inoltre ha l'effetto di essere sollevato rispetto al nostro obiettivo. Quando noi abbiamo il flash così vicino all'obiettivo e quindi le due luci viaggiano in parallelo così vicine, siamo molto a rischio di avere il fastidioso effetto degli occhi rossi, perché la luce in qualche maniera penetra nella maniera sbagliata all'interno degli occhi del nostro soggetto e li illumina in quel modo che è assolutamente sgradevole. Nel momento in cui noi alziamo invece il flash e quindi separiamo il nostro obiettivo dalla nostra luce, questo effetto dovrebbe essere minimizzato o essere completamente assente. Se noi scattiamo con questa configurazione possiamo impostare il flash in ETTL e dovrebbe darci l'esposizione sempre ottimale. Quindi è un modo molto facile di impostare il nostro flash e di averlo subito pronto all'utilizzo. Puntare il flash direttamente sul soggetto è un po' limitante. Infatti la cosa bella dei flash a cobra è che noi possiamo fare altre cose. Possiamo fare questo per esempio. In questo caso io sto scattando il mio soggetto ma sto puntando il flash sul soffitto. Se io ho un soffitto bianco, quindi il 90% delle abitazioni in Italia suppongo, se abbiamo una casa normale con un soffitto non troppo alto, quindi non un salone da ballo con un soffitto di 9 metri, ma una casa normale con un soffitto di 3-4 metri, puntiamo il flash sul soffitto bianco, avremo l'effetto di crearci un mega diffusore che andrà a illuminare la nostra scena in modo molto più morbido rispetto al flash puntato direttamente in faccia al soggetto. Andremo al contempo a eliminare l'ombra sullo sfondo che un flash diretto può produrre ed è un effetto molto sgradevole. Quindi vedete che semplicemente in questo modo, ci abbiamo messo pochi secondi a installarlo, abbiamo già ottenuto una luce molto più bella rispetto a utilizzare il piccolo flash sulla camera o rispetto a non utilizzare nessun flash. Tenete conto che scattare in ETTL ci mette in condizione di non sapere esattamente a che potenza stiamo usando il flash, quindi potremmo stancare il nostro flash molto prima, esaurire le batterie molto prima perché magari lo stiamo usando a piena potenza. Questa è una cosa che potremo andare a gestire utilizzandolo in manuale ma lo vedremo in un episodio successivo. Un'altra cosa molto bella che possiamo fare è girare la testa. Quindi questo è un cobra ma è un cobra che si guarda in giro anche. Quindi io potrei scattare in avanti ma avere la mia luce puntata da un'altra parte in maniera tale da personalizzare la direzione della luce, la direzione da cui proviene la luce del mio flash. Un'altra cosa che posso fare, spero che riusciate a vederlo, io qui posso estrarre questo piccolo vetro smerigliato che va a diffondere ulteriormente la luce. Quindi è un piccolo ausilio in più che c'è su questo flash. Alcune teste flash, devo dire questa purtroppo no, hanno anche una card bianca che è possibile estrarre che mi permette in questa modalità, mi permette di avere un piccolo diffusore qui sopra che mi fa rimbalzare parte della luce in avanti sul mio soggetto ma senza averla diretta sul soggetto. Sono tutti piccoli ausili che mi aiutano ad avere un'illuminazione migliore. Da notare che questo flash in particolare, questo è un flash di Canon con il frontale rettangolare. Storicamente i flash usano il frontale rettangolare perché va a matchare il rapporto del nostro sensore. Quindi abbiamo un lato lungo e un lato corto disposti nello stesso modo e questo è molto comodo perché va più o meno a coprire la stessa area che poi coprirà il nostro fotogramma se abbiamo impostato correttamente lo zoom come vi ho fatto vedere prima ovviamente. Devo dire che esistono dei flash che io ho scoperto di recente, dei flash in particolare di Godox ma forse anche di altri, che invece hanno il frontale rotondo. L'ho trovata una cosa molto interessante perché hanno un frontale più grande con una superficie maggiore quindi avremo automaticamente una luce più morbida e ci permette di gestirla in maniera diversa. Devo dire ho visto delle cose molto belle fatte con quei flash di Godox con il frontale rotondo quindi tanta roba e sarei anche curioso di provarne uno. Godox se sei in ascolto ti ho comprato un sacco di roba questo potresti anche mandarmelo. Bene amici credo che non ci sia molto altro da dire sull'utilizzo di un flash a cobra. In questo primo breve video abbiamo visto come si tira fuori e come si installa e siamo subito pronti a scattare e siamo subito pronti a cambiare idea sull'utilizzo del nostro flash perché finora se non ci è piaciuto probabilmente l'abbiamo usato nella maniera sbagliata. Fatemi sapere in un commento se questa serie vi interessa e se volete vedere come si può utilizzare il flash non più in automatico ma in manuale quindi prendendo pieno possesso di tutta la potenza creativa che abbiamo a disposizione per realizzare la foto esattamente come la vogliamo. Io vi ricordo come sempre che se volete non perdervi i prossimi episodi la cosa migliore che potete fare è cliccare il bottone iscriviti qui sotto. Ricordatevi che spesso e volentieri io rispondo con degli shorts verticali ai vostri commenti quindi se vi iscrivete poi non andate a perdervi le mie risposte. Io come promesso vi lascio con un video in sovraimpressione che vi interessa molto perché i modi di lettura che vado a dimostrare in questo prossimo video sono quelli che determinano come le TTL andrà a leggere la scena e quindi come verrà tarata la potenza del flash. Questo video comparirà non appena lancerò la sigla e a me non resta altro da fare che ringraziarvi di aver passato un po' del vostro tempo con me e darvi appuntamento come sempre al prossimo video. Ciao! Ciao!